buonasera a tutti mi chiamo eraldo affinati e vi parlerò di silvio d'arzo questo grande scrittore italiano del novecento a partire da un libro importante uscito recentemente dai naudi intitolato jack dell'avventura voglio proprio leggervi l'inizio di questo libro ragazzi me ne duole ma dovrò cominciare con un morto quel giorno infatti 11 aprile credo del 1727 nella più ridente raccolta ed isolata città della contea di fillet town nonostante l'odore delle viole i peschi appena in fiore in mezzo agli orti e nonostante fosse d'altra parte il più rosio e amichevole dei sabati non si scorgeva un bimbo per le strade e neanche nel bosco neanche al mare nessun loro grido o richiamo era per l'aria eppure c'era il sole era vacanza ecco questo come vi dicevo è l'inizio di jack dell'avventura la prima leggendaria stesura di penny whirton e sua madre il racconto per ragazzi più importante che ha scritto silvio d'arzo questa è la prima stesura che non venne mai pubblicata per la prima volta viene oggi messa alle stampe perché era rimasta inedita e grazie al diciamo al fondo mattioni iodi compreso all'interno della biblioteca panizzi di reggio emilia oggi è stata resa disponibile questa questa stesura che alberto sebastiani ha curato con alcuni fondamentali apparati filologici e hai qua e diciamo a questo libro ho collaborato perché mauro berzani responsabile naudi mi ha chiesto di scrivere il finale apocrifo di questo testo rimasto incompiuto diciamo fra gli scartafacci d'arziani e io ho accettato di buon grado e ho scritto questo finale perché sono molto legato a silvio d'arzo silvio d'arzo questo grande scrittore italiano che in realtà si chiamava ezio comparoni era nato nel 1920 a reggio emilia e morì giovanissimo a 32 anni nel 1952 per una brutta leucemia stiamo parlando di uno scrittore per molti versi unico nella storia della nostra letteratura intanto perché ha scritto poco ovviamente essendo morto così presto ma poi perché aveva una voce stilistica unica quasi incomparabile davvero straordinaria rimasto sempre da solo perché poi non conobbe mai suo padre era un figlio illegittimo infatti appunto silvio d'arzo è uno dei tanti pseudonomi che lui adottò anche per sfuggire alla ferita per curare questa ferita dell'identità paterna negata viveva insieme a sua madre rosalinda comparoni appunto nella nel grande stanzone di via schieri appunto a reggio emilia e si formava da si è formato da solo si è lavorato in lettere a bologna nel 1941 e cominciò a scrivere non si mosse mai di casa se non per una vicenda legata al servizio militare perché di fatto eh riuscì poi a scappare in modo rocambolesco dalla dalla tradotta militare dopo le vicende dell'otto settembre tornò a reggio emilia e scrisse questi suoi racconti per ragazzi eh dal quarantaquattro al quarantasei il nome di Silvio d'Arzo è legato soprattutto a a casa d'altri uno dei racconti più belli della letteratura italiana la storia di una povera lavandaia che in mancanza ad altro in mancanza di punti di riferimento eh a un certo punto si rivolse al curato al prete del suo paese nell'appennino tosco emiliano per chiedergli una dispensa eccezionale permesso di potersi suicidare addirittura quindi la richiesta di questa di questa povera donna eh cade sulle spalle del del sacerdote il quale non sa come come rispondere di fatto a questa a questa richiesta straordinaria che in fondo trasforma queste cinquanta pagine in una sorta di tragedia teologica così disse Vanganelli un racconto perfetto lo definì invece montale sulle pagine del Corriere della Sera certamente casa d'altri resta un capolavoro soprattutto per la voce la voce del del stilistica cioè un libro racconto lungo sostanzialmente scritto in una con uno strumento linguistico prestigioso una prosa poesia alcuni hanno calcolato che queste le diciamo queste frasi le frasi di casa d'altri eh in fondo hanno una cadenza decasillaba e quindi è come se fosse una poesia una poesia in prosa ecco vi leggo l'inizio di questo indimenticabile racconto eh tra i più belli appunto della letteratura italiana all'improvviso dal sentiero dei pascoli ma ancora molto lontano arrivò l'abbaiare di un cane tutti alzammo la testa e poi di due o di tre cani e poi il rumore dei campanacci di bronzo chini attorno al saccone di foglie al lume della candela c'eravamo io due o tre donne di casa e più in là qualche vecchia del borgo mai assistito a una lezione di anatomia bene la stessa cosa per noi in certo senso dentro il cerchio rossastro del moccolo tutto quel che si poteva vedere erano le nostre sei facce attaccate una all'altra come davanti a un presepio e quel saccone di foglie nel mezzo e un pezzo di muro annerito dal fumo e una trave annerita anche più tutto il resto era buio vedete come diciamo la descrizione paesaggistica sembra una sorta di fondale bucato dentro la il nucleo tematico e il prodigio di questo di questo di questo racconto sta proprio nella tensione nella suspense che il giovane ezio era riuscito a creare e fino a fino all'ultimo quando poi a un certo punto chiude richiamando questo paesaggio c'è quassù una certa ora i calanchi e di boschi e i sentieri e di pre e di prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia e poi viola e poi blu nel primo buio le donne se ne stanno a soffiar sui fornelli chine sopra il gradino di casa e i campanacci di bronzo arrivano chiari lì giù fino a borgo le capre si affacciano agli usci con degli occhi che sembrano i nostri allora mi viene sempre di più da pensare che ormai ora di preparare le valigie per me e senza chiasso partire verso casa credo di avere anche il biglietto tutto questo è piuttosto monotono no ecco questo il finale di casa d'altri che riprende peraltro una fra una frase di mo passano e siamo parlando di uno scrittore molto raffinato anche con una cultura letteraria prestigiosa da solo nella sua provincia fisica e metafisica allo stesso tempo si era creato un mondo mondo incantato un mondo intero io sono molto legato a silvio d'arzo tra l'altro insieme a mia moglie anna luce lenzi anche lei una d'arziana importante autrice di un volume monografico che è stato alla base di molti studi d'arziano intitolato una vita letteraria insieme a lei abbiamo fondato una scuola di italiano per immigrati l'abbiamo chiamata penny whirton proprio come penny whirton e sua madre il suo racconto per ragazzi più importante il più bel libro per ragazzi dopo pinocchio disse roberto pontre pontremoli e io credo di poter sottoscrivere questa dichiarazione un po forte un po ardita perché comunque siamo di fronte ad un racconto con tante invenzioni fantastiche c'è una donna anna dei bambini la mamma di jack penny poi che appunto è un ostetrica però se poi lei manca i bambini non nascono è un'invenzione amabilmente folle quella di di darzo c'è prese ci sono per esempio delle invenzioni legate ai morti nella collina si pensa master in qualche modo che però svaniscono se eh chi chi li pensa a un certo punto smette di di pensarli no allora loro svaniscono questi morti così come il padre di jacky di jack e di penny ted che in realtà era un povero serlaio però la mamma lo mitizza agli occhi del bambino che poi quando scopre la verità rimane deluso e scappa e si intruppa insieme ad una ad una combriccola strana di di pirati eh ecco si capisce bene da questa da questa mia rapida rapida sintesi tematica eh diciamo l'elemento stevensoniano no presente in in darzo robert stevenson in particolare è stato uno dei suoi grandi amori eh questi scrittori inglesi americani peraltro sono quelli a cui lui mh dedicò molto molti molti studi definire i testi di critica letterale d'Arziani come studi non va bene in adeguato diciamo sono delle delle écriture se noi leggiamo eh certi certi come dire medaglioni che d'Arzo riserva a Corrad a Hemingway a Henry James insomma restiamo restiamo molto colpiti perché che indubbiamente eh ci rendiamo conto che siamo di fronte ad uno scrittore che viveva la letteratura no la 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 incarnava per così dire ecco la eh certi libri per d'Arzo erano eh erano come dire eh luoghi dell'anima ecco pensiamo al suo Corrad ad esempio no eh era molto legato a Joseph Corrad in particolare Silvio d'Arzo amava Lord Jim no? Un forse uno dei racconti uno dei romanzi più belli di Corrad eh la figura di questo ufficiale che scappa da dalla nave che gli era stata affidata per una sorta di vigliaccheria durante una tempesta e poi cerca inutilmente di trovare dentro di sé un riscatto per riuscire a a riconquistare la dignità dell'essere umano ecco vediamo come ad esempio eh Silvio d'Arzo come descrive Corrad in uno dei suoi dei suoi saggi più importanti molti di noi sono più Lord Jim che Raskolnikov scrive Silvio d'Arzo e senza dubbio più Einstein che Sorel nel senso che molti hanno sbagliato una volta e la vecchia colpa è lì sempre vigile e in una penombra anche più sconfortante ed in grada della manifesta presenza e molti altri sentono un impreciso bisogno una commovente patetica inutilità di fuggire il mondo alla ricerca di un'isola che semmai potrebbero trovare solo in se stessi tutti poi debbono affrontare la vita con mezzi un poco al di sotto del bisogno che è per Conrad la classica condizione umana ecco eh gli scrittori inglesi e americani eh insomma furono come dire all'origine dell'ispirazione letteraria di Silvio d'Arzo che li amava molto amava molto un libro di Emilio Cecchi scrittori inglesi e americani proprio si intitolava ed ebbe una corrispondenza con Cecchi andò a Roma a trovarlo e questo per dire eh la densità ecco della sua vita purtroppo strozzata che è rimasta incompiuta eh inevitabilmente visto la la sua giovane età aveva intrecciato dei rapporti d'amicizia anche amorosi con una con una ragazza si chiamava Ada Gorini che fu il suo grande amore diciamo incompiuto eh però certo ci ha lasciato alcuni testi memorabili ho ricordato quelli oltre a quelli che ho ricordato vorrei citare all'insegna del buon corsiero un settecento un settecento fantasmatico ricreato fra locande e eh diciamo cavalieri eh l'osteria un altro titolo importante sempre di Silvio d'Arzo molti racconti brevi eh essi pensano ad altro un racconto lungo ce ne sono tanti diciamo di di testi usciti eh appunto di testi d'Arziani che attendono forse ancora una eh riproposizione organica perché D'Arzo certamente è dentro il canone del novecento però è ancora uno scrittore per happy few per i felici pochi per coloro che lo amano alla passione come appunto come è il mio caso però non è diventato popolare no ancora ma forse dico io forse è meglio così no è meglio che D'Arzo resti eh nella sua contea inglese ecco nella sua contea incantata per così dire al riparo diciamo da da una luce troppo forte che potrebbe che potrebbe fargli male no allora ecco perché quando poi io ho scritto questo racconto ho cercato il racconto conclusivo che porta diciamo porta questo finale di questo Jack ho cercato di entrare in sintonia con lui vi leggo anche qui soltanto l'inizio di questo mio eh racconto finale intitolato una sella con due staffe in campo giallo Nard il gabbiere non riusciva a prendere sonno nella sua cuccietta di lana e stracci rischiarato dal riflesso della luna che penetrava curiosa fin dentro il boccaporto aveva un bel rivoltarsi da una parte all'altra proprio non chiudeva occhio il disegno araldico suggerito dal ragazzo come emblema della sua falsa origine aristocratica gli tornava in mente alla maniera di un ritornello sciocco Jack lui si dormiva della grossa poggiato alla spalliera come un gattino stava precipitando in un gorgo al punto tale che presto nel sogno gli parve di sentire col suo naso di terza classe l'odore del lago immerso nella nebbia gelata dove riposavano i morti terrorizzato nuotò controvento nel tentativo di tornare sulla costa ma quando raggiunse una roccia vide davanti a sé la lama scintillante impugnata da Tommy Nurm il maestro d'ascia pronto ad impedirglielo che notte ragazzi ecco ho cercato nel mio piccolo di ricreare in questo finale apocrifo diciamo il l'atmosfera eh d'Arsiana prevalente eh D'Arso stava prima di morire anche progettando un un romanzo come dire che potesse veramente dargli la fama il successo a cui lui inevitabilmente ambiva eh che poi però non riuscì a chiudere un romanzo che potesse raccontare anche la storia italiana si si doveva intitolare nostro lunedì perché questo questo titolo è un'idea di ripresa no della ferialità per così dire questo ritmo quotidiano a cui lui voleva alludere nel momento in cui intendeva raccontare le vicende di tante persone riunite insieme nostro lunedì è comunque ehm una frase di Faulkner compresa in luce d'agosto anche anche nella scelta di questo titolo eh Silvio d'Arso confermava la sua adesione profonda alla letteratura americana non riuscì a metterlo insieme e quindi noi oggi siamo condannati a leggerlo eh unendo eh questi frammenti ecco che lui ci ha lasciato peraltro anche poetici perché lui era anche un poeta infatti alcune delle sue poesie sono poi eh erano inizialmente comprese nelle nelle narrazioni però adesso sono state anche riedite in un volume unico molto legato dicevo alla letteratura americana ma profondamente dentro la quella italiana fra cronaca e arcadia così lui definì la letteratura italiana degli anni trenta in qualche modo chiusa fra una tentazione angelica appunto e una tentazione documentaristica ecco e lui invece voleva unire diciamo l'elemento realistico con quello fantastico appunto come Stevenson ed è stato capace di farlo perché disponeva di un talento eh unico teniamo presente che in fondo lui veniva dal sottoscala dico io cioè non aveva una famiglia diciamo o una estrazione sociale capace di sostenerlo ha fatto tutto da solo eh nel momento in cui ha dovuto ricreare eh un mondo a partire dalla nuda vita che lui aveva vissuto c'è il reto dell'alpi la il paese delle vacanze per così dire il paese della mamma eh che sta verso la Spezia da da Parma alla Spezia in fondo è la quinta ideale di casa d'altri se uno va lì si rende conto diciamo da dove proveniva d'Arzo veramente Ezio Comparoni eh è lì che capisce veramente ehm il tipo di riscatto proprio alla alla Lord Jim che lui volle realizzare innanzitutto dentro se stesso e quindi è importante eh diciamo la presenza di questo Jack dell'avventura che vi faccio vedere qui eccolo ehm che in qualche modo può essere soprattutto per i giovani uno strumento di avvicinamento ecco a questo a questo eh scrittore così importante da insegnante lo dico anche eh mi piacerebbe se eh questo libro potesse eh come dire diventare eh un modo per far conoscere d'Arzo anche ai più giovani e allora a partire da questo si potrebbe poi andare verso verso gli altri grandi capolavori eh di cui certo ho detto casa d'altri rappresenta l'essenza primaria. grazie a tutti